Siamo in compagnia di un ospite particolarissimo, giovanissimo tra parentesi e siamo all'interno del Pica Caffè nella villa comunale di Guardia Grele. Siamo in compagnia di un giovane ragazzo di Guardia Grele, Giovanni Amoroso di 23 anni, che insieme ai suoi amici, che ne sono tantissimi, sono riusciti a organizzare in maria, la devo dire, mirabile qualcosa di molto particolare che adesso ci faremo spiegare direttamente da lui, Festival Suoni Modesti. Allora, che cosa sono, Giovanni, i Festival Suoni Modesti? Buonasera, il Suoni Modesti è un festival organizzato dall'associazione Modesti Onlus, quindi il Suoni Modesti prende il nome appunto dall'associazione che a sua volta prende il nome dal noto poeta dialettario guardiese Modesto della Porta. Niente, il Suoni Modesti è un festival che ospita da 4 anni band rock, l'anno scorso abbiamo ospitato la banda Bardot, Dente, Bass, Pense e Blues Explosion e lo scopo principale di questa iniziativa è quello di raccogliere fondi per i bisognosi. Questo è una, effettivamente, come dicevo anche prima, è un aspetto particolarmente lodevole quando viene appunto da ragazzi particolarmente giovani come lo sei tu, ma è vero ci sono tantissimi altri ragazzi, vero? Sì, in questi anni siamo riusciti a raccogliere all'interno della nostra associazione tanti ragazzi che appunto vogliono aiutare a migliorare un po' la situazione sociale di chi appunto ha dei problemi. Certo, allora però l'idea seminale, insomma il tutto, quando nasce l'abbiamo detto poco fa, 4 anni fa, ma da chi nasce? È stata un'idea di due amici, di tre amici oppure è stata una tua idea? No, è un'idea che appunto nasce dalla voglia di portare all'interno di un paese qualcosa di nuovo, di giovanile, qualcosa che noi, io insieme ad altri ragazzi dovevamo fare chilometri per ascoltare, dovevamo andare al nord, ci dovevamo spostare insomma di parecchi chilometri per ascoltare un qualcosa che poteva anche ospitare il nostro paese, però ovviamente ci voleva l'impegno di qualcuno e allora ha detto perché non ci proviamo? C'è un programma che adesso, ecco, magari se puoi insomma, è un telespettatore di Magliana News, esporre il programma di queste lunghe serate. Sì, allora, il Sonimo Adessi si terrà il 30 luglio a Guardiairele e vedrà come artista principale la band Verdena e in più aprirà il festival vincitore del Band Contest che noi organizziamo da tre anni e appunto questa sera c'è una sfida come tante altre serate dove due band si sfidano per arrivare alla finale e poi il vincitore aprirà il festival Sonimo Adessi. Negli anni futuri quali idee avete in merito? Perché abbiamo capito che comunque c'è una crescita esponenziale, quindi dal primo anno al quarto che è questo appunto. e il quinto come sarà? Speriamo che sia sempre meglio, questo è un auspicio che noi come modesti ci auguriamo per gli anni a venire. Siamo arrivati a quest'anno di Verdena che è una band che sta scalando le classifiche, figuriamoci se non possiamo migliorarci in futuro. Con le note dei festival, dei suoni modesti, noi vi auguriamo buon ascolto.